Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria, nuovi dubbi sul vaccino AstraZeneca, sembrerebbe pericoloso per i giovani. Intanto De Luca assicura che la campagna sarà immune per fine estate. La situazione nel Visuviano, continuano a diminuire i contagi e ad aumentare le guarigioni. Ancora sanità, allarme sicurezza all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Nei giorni scorsi l'ennesima aggressione ai danni di una guardia giurata. Intanto l'ASL ieri ha ricevuto i sindaci di Torre del Greco ed Ercolano. In chiusura ancora disagi sul fronte, rifiuti in città, le periferie e i vicoli sono ancora invasi da ingombranti. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Ancora paura per il vaccino AstraZeneca. Il Comitato Tecnico Scientifico dovrebbe esprimersi oggi in merito all'utilizzo del vaccino anticovid di AstraZeneca per i giovani dai 18 anni in su. Al momento alcune regioni hanno cancellato gli open day con il vaccino AstraZeneca aperti anche ai ragazzi, a seguito di casi di trombosi rare verificatesi in alcune giovani donne. Le nuove valutazioni potrebbero portare a dei limiti di non fattibilità sotto i 30 o i 40 anni, come ha anche spiegato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, mentre una revisione non la farei sopra i 50 anni, afferma, perché il rapporto tra rischio e beneficio è indubbiamente anche con la circolazione attuale a favore del beneficio. Anche se in Italia il vaccino di AstraZeneca è già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, come ha ricordato il coordinatore del CTS Franco Locatelli, molte regioni si sono mossi in ordine sparso e continuano a farlo. L'asla Napoli 2 oggi ha revocato l'open day programmato per domani sera con AstraZeneca a tutti i residenti di oltre 18 anni, senza prenotazione. A Napoli 44 persone sono state vaccinate per errore e a loro insaputa con AstraZeneca. È accaduto domenica 30 maggio nel centro vaccinale della fagianeria a Capodimonte. Si sarebbe trattato di un errore del farmacista incaricato di prendere il flacone. Anziché Pfizer ha scongelato il vaccino sbagliato e preparato siringhe, si trattava della prima dose, contenenti il siro anglosvedese. Ma chi ha somministrato il vaccino, questo affermano dall'asla, era sicuro di aver utilizzato Pfizer, così come chi ha avuto l'inoculazione. Anche sul certificato era attestato erroneamente che era stato utilizzato il vaccino americano. L'asla sta contattando le 44 persone, sono tutti napoletani, tra i 18 e i 38 anni, per avvisarle di quanto accaduto, ovvero che sono stati vaccinati con AstraZeneca e non con Pfizer. Intanto procede a ritmo serrato la campagna vaccinale su tutta la Campania. Il presidente De Luca ha annunciato che per fine estate la nostra regione potrà raggiungere l'immunità di gregge, mentre la città di Napoli potrebbe diventare immune già entro luglio. Ho fatto una guerra di due mesi per ottenere i vaccini adeguati alla popolazione campana. Dalla scorsa settimana abbiamo raggiunto questo obiettivo perché ci hanno mandato i vaccini in proporzione alla nostra popolazione. Chiedo che adesso anticipino la campagna più vaccini, proprio perché siamo la popolazione più giovane, perché dobbiamo vaccinare i ragazzi sopra i 12 anni e quindi vorremmo essere messi in condizione di vaccinare la popolazione studentesca per l'inizio dell'anno scolastico. Gli obiettivi intermedi che ci siamo dati sapete quali erano immunizzare le isole per rilanciare sul piano mondiale il nostro turismo, quindi le isole e le fasce costiere. E poi la città di Napoli, prima città d'Europa immunizzata. Se Dio vorrà a inizio luglio potremo dirvi che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Covid nel Vesuviano continuano a calare drasticamente i contagi. Bilancio in pareggio ieri a Torre del Greco, dove sono stati certificati 4 nuovi casi di contagio e 4 cittadini guariti. Il bilancio rimane quindi fermo a 51 torresi ancora positivi, di cui 11 ospedalizzati e 40 in isolamento domiciliare. Contagi in calo anche a Torre Annunziata, dove è stato registrato solo un nuovo caso di contagio da Covid-19 a fronte di 72 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,39%. Al contempo si registrano anche due guarigioni. Sono 17 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 22.501. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima la seconda dose sono 5.862, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 16.639. La percentuale è pari al 40%, calcolata sul numero delle prime dosi, il rapporto ai 41.355 residenti. SOS Sicurezza all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Un tema che torna all'attenzione dopo l'ultima aggressione di questi giorni ai danni di una guardia giurata, in servizio all'esterno del pronto soccorso. Un copione già visto nel tempo, un problema mai risolto. Tutto accade mentre la Direzione Generale è al lavoro per la riorganizzazione del pronto soccorso, che, come dichiarato dal Direttore Sanitario Aziendale Gaetano Donofrio alle telecamere di TV City, dovrebbe riaprire il prossimo 16 giugno. Una problematica denunciata a gran voce dalle organizzazioni sindacali, in particolare dalla CISL Funzione Pubblica, anche a seguito di diversi episodi verificatisi negli ospedali della città di Napoli. Intanto, da voci di corridoio, sembrerebbe che si voglia organizzare il lavoro del pronto soccorso a Torre del Greco con un medico, due infermieri e un operatore socio-sanitario a turno per le 24 ore. Un organico chiaramente insufficiente per gestire il servizio e inevitabilmente esposto in termini di sicurezza. Se si pensa di riaprire in queste condizioni pur di mantenere gli impegni presi, è sicuramente inaccettabile, è la voce degli operatori. Senza contare che in pronto soccorso c'è un defibrillatore obsoleto, le barelle sono rotte e di notte anestesisti solo con la reperibilità. Dettagli basilari che però sembrerebbe non siano stati al centro della discussione nel corso dell'incontro di ieri dei sindaci di Torre del Greco ed Ercolano con la direzione generale. Secondo infatti quanto diffuso alla stampa dall'amministrazione comunale di Ercolano, l'azienda sanitaria ha fornito risposte soddisfacenti in merito al futuro dell'ospedale Maresca. Il pronto soccorso sarà riaperto il prossimo 16 giugno e contestualmente sono già partite le procedure per i lavori di adeguamento del terzo e quarto piano della struttura che potrà contare su 130 posti letto, la creazione di un reparto di subintensiva e un pronto soccorso funzionante. Il sindaco Ciro Buonaiuto ha espresso la sua soddisfazione per l'esito dell'incontro. Nessuna dichiarazione al momento arriva invece dall'amministrazione comunale di Torre del Greco. In ogni caso si tratta di parole che restano in attesa di fatti concreti. L'associazione Promaresca ha già annunciato ai microfoni di TVCity che continuerà a vigilare sull'operato dell'ASL sia rispetto all'organizzazione del pronto soccorso che sul futuro della struttura sanitaria. Ancora degrado immondizia per le strade di Torre del Greco. Non migliora la situazione dei rifiuti del comune Corallino. Sono tante le segnalazioni dei cittadini che vivono una situazione di abbandono, soprattutto nelle periferie e nei vicoli meno trafficati che diventano spesso delle vere e proprie discariche a cielo aperto. È il caso della zona Porto, specialmente nelle traverse di Corso Garibaldi. Comuni di sacchetti di ogni tipo si possono trovare ad ogni angolo. Non aiuta che l'intera area sia fulcro della movida giovanile. Ogni sera marciapiedi si riempiono di bottiglie di birra vuote, bicchieri di plastica e qualunque altro scarto dei giovani avventori. Altra zona critica è quella in via Cavallerizzi, che nonostante le numerose denunce, resta ancora una vera e propria discarica, dove chiunque può andare a gettare rifiuti di ogni genere in qualunque ora del giorno e della notte. Restano inoltre le problematiche legate al conferimento degli ingombranti. Pezzi di mobilio e materassi fino ad elettrodomestici rotti fioccano sempre più evidenti in tutte le strade cittadine. Colpa ovviamente dell'inciviltà, ma il caos di inizio settimana con la temporanea chiusura del centro di raccolta, ha creato non poca confusione, rendendo le stesse regole sul conferimento molto difficili da comprendere e rispettare. Arrivederci a domani.